Questo video è un esperimento ragazzi, ovvero una mini recensione. Che cos'è una mini recensione? È un format molto simile a quello che sto portando in altre modalità, ma che è una recensione più piccola. Ma a che serve una recensione più piccola? Serve a coprire quei tipi di giochi che, a mio parere, non necessitano di una full recensione, di una quindicina, ventina di minuti o qualcosa di più, ma che si meritano comunque qualche minutino di chiacchiera, ok? Che voglio dirvi la mia impressione su qualche gioco di cui altrimenti non parlerei perché non avrei molto da dire per chissà quanto tempo, ok? Quindi fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate di questo format che ho ricavato come angoletto extra per parlarvi di questo tipo di giochi, ok? Qui sotto nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere perché questa è la prima puntata di questo nuovo format un pochettino ricavato, ecco. Bene, gente, oggi vi voglio parlare di Shady Part of Me. Questo titolo qua, dopo averlo portato nella serie Proviamolo, l'ho voluto giocare il prima possibile perché, cavolo, quanto è ispirato da moltissimi punti di vista. Questo mi è stato chiaro fin da subito e vi dico la sincera verità, non sono poi così tanti i titoli che mi sembrano così ispirati. Aveva veramente una marcia in più. Ce ne sono tanti di platform che vogliono raccontare una storia per allegorie o per metafore, eccetera. Però non tutti riescono bene in questo intento. Bene, vi dico subito, Shady Part of Me ci riesce. C'è la serie sul secondo canale, la potete andare a recuperare, c'è il link qui sotto in descrizione se volete. Titolo veramente adorabile. Si tratta di un misto di puzzle solving e di narrazione perché ti porta all'interno di un mondo, un sogno, fin quasi alla fine del gioco non riuscivo a capire se si trattasse di una metafora, di una cosa prettamente onirica, un po' criptica, di cui devi carpire il significato, all'inside, per capirci. E io credo che invece questo gioco mostri, certo, per metafore, se vogliamo, e per immagini oniriche, un qualcosa però di molto preciso. Non voglio spoilerarvi cosa perché vi rovinerei una delle cose principali di questo gioco, tutto sommato, ma il gameplay è ispirato tanto quanto il comparto artistico e tecnico. Questo gioco è realizzato bene dal punto di vista tecnico, molto ispirato dal punto di vista artistico, e anche il gameplay è, certo, minimale, se vogliamo, da certi punti di vista, ma interessante perché ha alcune idee uzze, in parte riciclate, non è niente di assolutamente innovativo, mai visto prima. Però è molto carino perché gioca su due personaggi. Hai l'ombra, che è la prima che vedi nel gioco, oltretutto, e inizi a pensare che il gioco sia così, e comincia a pensare, ma aspetta, i gameplay che ho visto non erano così, forse evolve dopo, e infatti è così. Dopodiché passa in tre dimensioni, un po' alla Little Nightmares, per capirci, e però, attenzione bene, il gioco va in parallelo, e a un certo punto devi controllare due personaggi, ma costantemente, e devi risolvere i puzzle ambientali, perché è un gioco di risoluzione di puzzle, questo sostanzialmente, risoluzione di puzzle che si accompagnano a una narrazione. A una narrazione che però va per immagini, per ricordi. Credetemi ragazzi, io non sono il tipo da gradire particolarmente le cose criptiche. A me piacciono le storie, abbastanza dirette, ben raccontate, che mi portano all'interno di un filone narrativo. Le cose troppo criptiche? Magari le posso molto apprezzare lo stesso, come è successo per Inside, però io preferisco le cose un pochettino più dirette. Ma quando un gioco è in grado di offrirti un immaginario come questo, devo dire che rimango colpito lo stesso, e anzi, anzi, lo consiglio, e anzi, lo apprezzo moltissimo. E questo è stato il gioco, e infatti è questo il video di mini recensione, è il primo che faccio, è stato il gioco che mi ha fatto dire, porca miseria, ma io ve ne voglio un po' parlare di questo gioco, però come faccio a farvi una recensione completa su un gioco che dura poche ore, poche puntate, non ci sono gli elementi per dirvi chissà che, no? Però voglio parlarvene lo stesso, anche se fosse solo per pochi minuti. Quindi devo ringraziare questo gioco da molti punti di vista. Primo, per il divertimento che mi ha offerto, per le bellissime cose, per la maestria, come trattano certe cose gli sviluppatori, e devo ringraziare anche perché mi ha dato l'idea di questo format. Quindi avrà un posto speciale, questo qua, nei miei ricordi sicuramente, ma anche se non ve ne avessi parlato, anche se fosse rimasto un pochettino soltanto come gioco giocato, come ce ne sono stati sul mio canale, avrebbe comunque un piccolo posticino e ve lo consiglierei comunque, ok? Qualcuno me l'avesse chiesto. Quindi, gente, credetemi è un gioco veramente valido, certo, avete capito, no? Di che gioco si tratta, non è per tutti, alcuni si rompono le balle con giochi come questi, e magari potreste anche non gradire, che ne so, il lato artistico, certo, deve corrispondere ai vostri gusti, ragazzi, come qualsiasi altro gioco, ma se questo tipo di gioco fa per voi, credetemi, giocatelo perché è una piccola perla, è veramente una piccola perla, un'esperienza breve, poco costosa, sull'Epic Store sta a poco più di 10 euro, una cosa del genere, e tra parentesi c'è anche il buono sconto in questo periodo, quindi io me lo sono portato a casa con tipo 5 euro, se ben mi ricordo, soldi spesi benissimo proprio, quindi gente, consigliatissimo, esperienza toccante, unica, vorrei dirvi qualcosa di più, ma non posso perché sarebbe spoiler, dannazione, comunque se non volete giocarlo, recuperate la serie, sono poche puntate, perché la storia che racconta questo gioco, secondo me, è carina, è carina, niente di eccezionale rivoluzionario, però veramente una piccola perla, una bella storia, e una bellissima esperienza, bene, gente, è tutto quello che volevo dirvi di questo gioco, come vi ho detto, pochi minuti, però volevo assolutamente parlarvene, quindi spero che abbiate apprezzato, fatemi sapere che cosa ne pensate del gioco, fatemi sapere se avete gradito la serie, andatela a recuperare in caso, e fatemi sapere se gradite questo tipo di mini recensioni, fatti con lo stesso format delle mini news, sostanzialmente, ma che mi dà modo di parlare un pochettino anche di giochi come questo, d'accordo? Bene, era davvero tutto per questo video, la sezione commenti è tutta vostra, mi raccomando, fatemi sapere il vostro feedback, riguardo a tutte queste cose che vi ho detto, io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione, trovate come sempre tutti i link ai miei social, e community come Instagram, Telegram e Discord, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video delle mie mini recensioni, che con oggi inizierà, il video della playlist sul secondo canale della serie di Shady Part of Me, e anche il link, infine, per acquistare il gioco, e se lo acquistate tramite questo link, sappiate che aiutate e supportate moltissimo il canale, d'accordo ragazzi? A presto! iscriviti al canale,